Eccolo il momento clou. Una parte della punta del sostegno della linea aerea Villa Bonafanna viene staccata dopo essere stata sbullonata dagli operai. Da qui, dopo essere stata appoggiata a terra, verrà portata in un'area dove verrà demolita in sicurezza. L'importanza di queste iniziative è proprio nel aumentare la qualità della vita dei nostri territori e per quanto riguarda gli interamenti che stiamo facendo in molte parti del Veneto, è un'attenzione all'ambiente davvero importante. C'è una collaborazione anche con l'università perché questi sono interventi ad altissimo tasso di innovazione e di ricerca. La demolizione di questa mattina rientra all'interno di un piano di interventi strategici che riguarda il riassetto della rete elettrica locale di Mogliano Veneto e di altri comuni nel veneziano e nel trevigiano per un investimento complessivo di 2 milioni di euro. L'operazione prevede lo smantellamento di 55 chilometri di elettrodotti aerei e di 245 sostegni risalenti agli anni 50 che attraversano aree pubbliche e di pregio ambientale. A Mogliano in particolare sono stati liberati 21 ettari di territorio grazie alla rimozione di 32 tralici e questo rappresenta un passaggio importante che permetterà di riconsegnare alla piena disponibilità delle comunità ma anche dei privati spazi e aree pubbliche. I progetti non mancano. Qui in particolare dove siamo c'era sempre l'idea di ampliare l'impianto sportivo del calcio e siamo sempre rimasti bloccati. Qui a sud c'era la proposta di un project financing per un campo da paddle che è rimasto fermo perché c'era la linea elettrica. Questo intervento è rappresentativo della buona collaborazione tra Terna S.P.A. e la regione Veneto. Collaborazione che è fondata in particolar modo sulla progettazione partecipata, sul dialogo con le amministrazioni e con il territorio e che ha portato i suoi frutti sia per quanto riguarda interventi di sviluppo da prevedersi nella regione, sia per quanto riguarda tutti quegli interventi di mitigazione e alleggerimento del peso delle infrastrutture sul territorio, come è un esempio evidente quello che stiamo sforzendo oggi.